Il decreto legislativo 15 novembre del 1993 numero 507 che disciplina la Tarsu in relazione all'individuazione dei presupposti della tassa e dei criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario chi inquina paga, sia perché è consentita la quantificazione dal costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina contiene previsioni che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. A Tarsu si consideri il consolidato principio secondo cui grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal decreto legislativo 16 novembre 1993 numero 507 articolo 62 commi 2 e 3 per alcune aree detenute o occupate ed avendo specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione. In questo modo si nega che un locale adibito garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani.